Amici di Keptam Music, buonasera, siamo sempre all'interno del centro Charme & Beauty per un nuovo appuntamento con l'estetica, con la bellezza. Charme & Beauty di Maddalena Chianese che mi avvicino piano piano, siamo al 25 di novembre, l'ultimo giorno di novembre, ancora Carmen protagonista come modella. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, ciao Amino. Come va? Benissimo, benissimo. Allora, la ritroviamo di nuovo, settimana scorsa gli abbiamo fatto la colorazione, e che facciamo? Prima le coloriamo e poi le togliamo? Sì, perché comunque noi strepando il pelo creiamo un arrossamento, quindi è meglio fare prima il colore e poi l'epilazione. Perfetto, e queste epilazioni? Rigorosamente con la pinzetta. Perché ci sono altri metodi? Sì, usano molto spesso la cera. Io su quanto sento queste cose mi arrabbio moltissimo. Non ti arrabbiare adesso, io non ho detto nulla. Perché comunque la pinzetta, allora, partiamo da questo che l'estetista è un'artigiana, e la pinzetta è l'arnese che usa l'estetista. Basta. Quindi altre cose sulla sopracciglia non devono e non possono essere fatte, in quanto l'arzona orbicolare comunque è composta da muscolo, quindi facendo sempre uno strappo sulla sopracciglia, tirando contro pelo, provochiamo una cadenza con il passare del tempo proprio della palpebra sopraccigliare. Quindi solo, esclusivamente, pinzetta. Facciamo vedere come funziona l'epilazione della sopracciglia con la pinzetta, in maniera molto semplice, in dolore anche, giusto? Diciamo che questo è molto soggettivo da persona a persona, c'è chi riesce a sopportare meglio la ceretta e chi non la sopracciglia. Quindi molto personale. Però, comunque, bisogna avere una mano leggera. Una mano leggera che sicuramente Maddalena Chianese ha, e la Carmen la vedo bella, rilassata e tranquilla. Allora, Maddalena, ogni quanto bisogna fare l'epilazione della sopracciglia? Allora, diciamo che per essere perfetta la sopracciglia deve essere depilata una volta a settimana, poi dipende molto dalla crescita del pelo, anche ogni 15 giorni, 10 giorni. C'è una cosa da dire, la sopracciglia non è come il taglio di capelli che può essere cambiato a piacimento della persona, ma uno schema molto importante da valutare con la forma del viso, del mento, degli occhi, dello zigomo e della fronte. Comunque, diciamo che è studiata proprio a tavolino la sopracciglia. In base ai vari punti, per esempio, la parte, diciamo che è composta da una parte ascendente e una parte discendente. La parte ascendente deve essere sempre più lunga della parte discendente, quindi questo lato qui più lungo di quella discendente. Diciamo che qui dobbiamo fare anche una correzione. Comunque, la sopracciglia deve partire, sempre bisogna misurare proprio l'angolo dell'occhio e l'ala del naso, quindi da dove l'asse che parte dall'angolo dell'occhio all'ala del naso è la parte iniziale della sopracciglia. Questo è per definire l'inizio, infatti qui manca un pezzettino, quindi dovranno crescere. Maddalena, scusami un attimo, ma il metro di misura è la matita? No, il metro di misura sono delle linee immaginarie. Prendiamo la matita per far vedere agli amici a casa quali sono le linee immaginarie. Perfetto, perfettissimo. Continua nella tua spiegazione che sei eccezionale. Ok, la parte finale invece, la parte ascendente, dobbiamo partire dall'ala del naso e deve finire dove è la tempia. Quindi deve essere un pelo più corta. Allora, una spiegazione eccezionale come una vera protagonista, la protagonista ed esperta nel settore, sicuramente all'interno di Captain Music, Maddalena Chianese. Allora, Maddalena, dove ti possiamo trovare? Io lo so, loro forse non ancora. Mondragone, in provincia di Caserta, Viale Regina Margherita, 183, Charmin Beauty. Allora, mese di novembre si è concluso, l'appuntamento mese di dicembre, tantissime novità perché poi dicembre ci sono tantissime festività, poi si concluderà con il veglione di Capodanno, quindi tantissime cose ci dirà Maddalena Chianese. Grazie a Carmen, a voi continuate a vedere Captain Music. Grazie a tutti.